Buongiorno a tutti Buongiorno a tutti Buongiorno a tutti Aspetta che Si deve vedere La ha aperto Adesso un attimo la faccio uscire Però la mincia apre il primo pacchetto di oggi Speriamo sia abbastanza fortunato Vediamo la mia mincia Ciampiamo Che magicata ragazzi Nesta Minchie Comunque no Allora adesso che siamo un attimo più tranquilli Parliamo un attimo delle cose che si devono dire Nel senso tutto ho fatto Aprire il primo pacchetto la mincia Perché volevo dire una cosa Nel senso tutto No aspettate Ricordatevi di passare da FIFA Contest Se potete appunto comprare C'è un video È un sito molto affidabile Affidabilissimo E ragazzi Che cosa fa sto sito? Farà uno sconto abnorme Del 70% Del 40% Se non mi sbaglio I domani Dopodomani e sabato Che appunto saranno i giorni Di uscita delle leggende Vabbè che uscirà a venerdì Ma io credo che li mettono già da giovedì Quindi mi raccomando Se siete su Xbox Di credito Non prendeteli oggi Ma prendeteli venerdì Perché faranno uno sconto abnorme Comunque poi ragazzi Vi volevo dire Ecco Torniamo un attimo a parlare Intanto io mi accingerò Ad aprire i nuovi pacchetti Innanzitutto la squadra della settimana Guardate che è composta Stanno andando second if Mutigno E sacco Che è una cosa abbastanza Sacattica No Quindi Cosa vi volevo dire Ah si Parliamo un attimo Della divisione di questo pack opening Innanzitutto io ho intenzione Di aprire All'incirca 100.000 crediti di pacchetti Una cosa così Però pensavo di fare Un video unico E poi tagliarlo in tre parti Cercando un attimo Di highlights Però ho detto una cosa Possiamo fare magari 100.000 crediti oggi 100.000 crediti domani Dopodomani Comunque In poche parole Mamma mia che pacchetti Che sto prendendo In poche parole Questo era per dirvi Che questa settimana Vi dovrete aspettare Aspettare il pack opening Ma in una vera Allucinante Quindi Aspettatevi ragazzi Un'altra cosa Che volevo dire Era che Inizierò a ritornarti Il secondo canale E che cosa farò Ragazzi Mi sembra di dare Abbastanza statica Non solo farò il pack of the day Che magari sarà Pack of one Of two day No Perché farò magari Un pack of the day Ogni due giorni E invece L'intervallerò Appunto Quando saranno Da intervallare Da squad builder Ma perché non li faccio Il primo canale Perché ragazzi Io solitamente Magari Faccio tante squadre Ma Sono sempre molto simili Però queste le vorrei Anche far vedere A voi Tanto che non mi sembra Giusto magari fare Un po' Un video apposta Sul primo canale Di queste squadre E lo farò sul secondo Quindi magari Mettete caso Un giorno Io ho valutato in attacco E ho un ibrida Tra serie e Bundesliga Vi faccio il video Del ibrida Tra serie e Bundesliga Poi la cambio Diventa ibrida Tra Bundesliga E barbara Mamma mia Che giocatori Vi sto trovando E vi farò vedere Anche quello Quindi è una cosa Abbastanza tattica Fatemi sapere Se vi piazza E innanzitutto Dovete fare una cosa Se volete Che io trovi qualcosa No Un attimo Prima Cioè di una cosa Abbastanza tattica Che ho pensato Prima Perché ho iniziato Perché ragazzi Vorrei che voi Mi consigliate una cosa Da fare Da mettere Da usare In ogni video Così appunto Per renderli ancora Più originali Non perché Adesso non lo siano Ovviamente Spero che voi Non li troviate Come era Il solito video di FIFA Però per Originalizzarli ancora di più Io ho già in mente Una cosa per Madonna onda Va bene Un 81 E un 78 Io ho già in mente Una cosa che è magicissima Credo per i prossimi Pac opening E magari voi Scrivetemi anche una cosa Non Non ve la dico Però Non ve la dico Quindi voi Abbuzzate l'ingegno Fate venire in mente Qualcosa Che io posso utilizzare Appunto in questi video Comunque Stiamo andando malissimo Non abbiamo trovato niente Dai Dai Questo è buono Chiudiamo gli occhi Benat Ufff E basta E basta Mamma mia Però ci stiamo avvicinando Ragazzi Perché Dal non trovare mai niente Un tunnel In costante Dal non trovare mai niente Abbiamo messo a trovare Un giocatore Con ovvero L'81 E un altro Con l'82 Non mi sembra male Alaba Dai Sono le 7 e 7 Dai Le 7 e 7 Ora è fortunato Vediamo ancora gli occhi 66 Fernando Case Canesin Mamma mia Tanta roba E niente Dai Per favore Per favore Dio piscitella Facci trovare qualcosa Ragazzi Ora Lo apriremo Col naso Ebbene si Col naso Io l'ho detto Io lo faccio Questo Dai Mamma mia Chiudiamo gli occhi Adesso Chiudiamo il naso Lol No Chiudiamo tutto Ho sentito il rumore Tevez Va bene Va bene Madonna 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 se funziona Madonna se funziona Allo spark Mamma mia Tevez Ragazzi Va benissimo Va benissimo Minghe Va bene Va bene Alla grande Alla grandissima Basta Ne facciamo un altro Via Ormai è pronta Stata la fortuna Come prima Chiudiamo tutto No Che palle Non abbiamo tolato Niente Cruze Agassa Tiago Forse Silva Minghe Che schifo Lì non Spacuzione solo Una volta L'abbiamo capito Allora Adesso Cosa faccio Davanti Storia di stand Storia di stand 10 minuti Minghe Però Però È all'incirca Sì Ho aperto Centina Credito Roll E Disminuti Sì va 8 Ci sta Dai Ultimi 3 pacchetti Dai Ultimi 3 Messi Ci giriamo Ci giriamo Vediamo No Che schifo Mi ha anche un giocatore Aororano Ma beh Ma beh A chi posso farla Prima Guardiamo un attimo Se la misce ancora La vado a richiamare Vabbè Poi Minghe Apricene un altro Minghe Apricene un altro Non questo Perché non ci ispira Neanche questo Minghe Aspetto Oh Facciamo vedere Le parti più sexy Della mia gatta Il sedere Ok basta Vincia questo Dai Come prima Ci sta L'hai aperto Grande Vai Guarda qua Intanto Fai la sexy Vabbiamo C'è chi trova Minghe Minghe Battemi Non sei buona Aspetta L'avano un attimo Ad aprire anche la porta giù Ragazzi Oggi la misce non era gasata Ma ci pensiamo Perché Ci stavo accingendo Ad aprire Gli ultimi due Pacchetti Gli ultimi due Dai dai Gli ultimi due Li voglio carichi Li voglio carichissimi Carichermi Dai Gli ultimi due pacchetti Dai Vidal Arturo Arturo fammelo Quando il gioco Si fa duro A trovare qualcosa Nei pacchetti Ci pensa Arturo Dai Ora lo guardo Lo guardo Ti guardo Fabregas Era in forma Dieci minuti fa Dieci minuti fa Era in forma No 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 Dieci minuti fa Era in forma Dieci minuti fa Era in forma Perché non l'ho aperto Dieci minuti fa Dai Poteva venirmi Dieci minuti fa Dai Fabregas Ragazzi L'ultimo pacchetto Non so come aprire Con i piedi Lo apro Con il gong Mamma mia Basta Basta È fatta Abbiamo Ciula Che ci porta fortuna Giampa Velo Ralf Uno Due Non so Che schifo No Io nell'ultimo pacchetto Voglio fare qualcosa Ragazzi Quindi Dai Dai Però non posso Vado ad aprire Ragazzi Non posso più Aprirvi Gli altri pacchetti Questo perché Perché Questi credit Li terrò Per i prossimi Macomening Comunque Questo Macomening È andato maliccio Però potrebbe essere Poteva andare Molto meglio Nel caso in cui Apressi questi pacchetti Dieci minuti fa Perché avrei trovato Fabregasif Dettagli Quindi ragazzi Ho detto questo Io vi esorto Alla sera Un bel piaccia Solo perché I due pacchetti Li aperti La mia amica Quindi spero che l'idea Vi sia piaciuta Vi ricordo Allora innanzitutto Vi passate dal calco a noi stessi Se volete appunto Prendere crediti Se siete su Xbox Mi raccomando Prendetevi venerdì Che faranno uno sconto del 40% Secondariamente Commentate Commentate scrivendo cosa Scrivendo cosa Vi consigliate di usare Di indossare O utilizzare In questi video Con la facecam E terzius Scrivete Una frase ambigua Io voglio una frase ambigua Più frasi ambigue ci saranno Più fortuna avrò io domani E ovviamente Le cose che troverò Forti Cos'è la farò Le più impalerò Quindi ci potete Guadagnare sempre Quindi ragazzi L'ho detto questo Io ho detto tutto E vi dico potendo Parla di sempre Il prossimo video Bolla Grazie a tutti